Contributo sociale ai privati La Regione Toscana ha istituito un contributo sociale per i privati che hanno subito danni nell'alluvione che ha colpito Livorno con le salvetti del Rosignano Marittimo il 9 e 10 settembre scorso. Due sono i requisiti fondamentali per poter accedere al contributo. Avere un ISEE per nucleo familiare non superiore a 36.000 euro. Il contributo massimo sarà pari a 8.000 euro per i nuclei familiari con ISEE in corso di validità fino a 20.000 euro. 5.000 euro per i nuclei familiari con ISEE in corso di validità ricompreso tra 20.001 euro e 36.000. Aver consegnato la scheda B ricognizione danni. Il contributo concesso sarà il minore tra il valore massimo sopraindicato e la stima del danno quantificato nella scheda B per i beni ammissibili a contributo. Si può richiedere il contributo solo per le unità immobiliari che costituiscono abitazione abituale e stabile, gli impianti funzionali all'abitazione anche se installati nelle pertinenze quali ad esempio autoclavi, addolcitori e caldaie, le parti comuni degli edifici qualora trattasi di danni alle parti interne all'immobile o agli impianti comuni quali ad esempio vani scale, ascensori, impianti di riscaldamento condominali, i beni mobili essenziali contenuti nelle unità abitative, esclusi i beni mobili contenuti nelle pertinenze, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad uso privato. Attenzione, sono esclusi i danni alle pertinenze quali cantine, garage e i beni ivi contenuti. La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare. Ogni nucleo familiare avrà diritto a un solo contributo. Nel caso di scheda B presentata dall'amministratore di condominio, la domanda per il contributo potrà essere presentata solo dal condomino per le parti comuni dell'edificio di propria competenza. Come fare? Si può compilare il modulo online disponibile all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it slash alluvionelivorno Ci si può recare direttamente all'ufficio costituito presso il Genio Civile di Livorno via Aristide, Nardini, Despotti, Mospignotti, numero 33, dal lunedì al venerdì, ore 9.13, 14.17, telefono 055 43 82 911. Qui si potrà essere supportati nella compilazione della domanda. Documenti necessari per richiedere il contributo Copia di documento di identità in corso di validità Certificazione ISEE in corso di validità In caso di richiesta di contributo per danni agli autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori si dovranno avere Certificato di proprietà dell'autoveicolo, motoveicolo o del ciclomotore Certificato di rottamazione nel caso in cui il veicolo sia andato distrutto Fatture e o ricevute fiscali anche in copia conforme all'originale Comprovanti i costi sostenuti per la riparazione del bene mobile registrato Non necessarie in caso di rottamazione del veicolo Libretto di circolazione Le domande di contributo dovranno essere presentate in modalità telematica entro e non oltre le 23.59 del 7 dicembre 2017 L'ufficio a supporto per la compilazione sarà aperto nei giorni dal lunedì al venerdì ore 9.13 e 14.17 La Regione Toscana ha sottoscritto un protocollo con le organizzazioni sindacali per identificare i CAF a cui rivolgersi per avere la certificazione ISEE del tuo nucleo familiare